Buongiorno a Dario TV News. Oggi 15 marzo è Santa Luisa de Mariac. Il movimento dei consumatori segna il 15 marzo con la giornata mondiale dei diritti dei consumatori come un mezzo per aumentare la consapevolezza globale sui diritti e le esigenze dei consumatori. Celebrando questa giornata è la giusta occasione per chiedere che i diritti di tutti siano rispettati e protetti e per protestare contro gli abusi di mercato e le ingiustizie sociali che minano tali diritti. È stata estirata dal presidente John Fitzgerald Kennedy il quale inviò un messaggio speciale al congresso degli Stati Uniti il 15 marzo del 1962 in cui è affrontato formalmente la questione dei diritti dei consumatori. Oggi è anche la giornata nazionale del fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare. L'iniziativa è stata promossa per la prima volta nel 2012 dell'associazione Minutro di Vita con il tentativo di offrire supporto a coloro che stanno lottando contro queste problematiche e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei disturbi del comportamento alimentare tra cui anoressia, bulimia, obesità e altre forme ancora.